Per tutto sono molto commossa, quindi non so se riuscirò a parlare, però diciamo che per me è stato il mio cardinale. Tutte le volte che c'era un dubbio, che c'era un problema anche politico, morale, la sua parola mi ha sempre confortato e invitato alla strada. Ha un episodio in particolare che lei lega, un ricordo? Io ricordo la prima visita che ha fatto la mia parrocchia quando ero piccolo ed ero ancora chirichetto, visto davanti questo grande uomo, si parlava del cardinale Martini, questa persona, questa figura così imponente, tanto imponente quanto buona. Io credo di averlo incontrato una volta in aeroporto in Spagna e ho scambiato una parola ma mi aveva emozionato, poi ho sempre seguito quello che scriveva e credo che la sua apertura ha la capacità di porsi i problemi e di ascoltare i problemi fosse quello che è la caratteristica sua principale, insomma è quello che ci ha trasmesso e credo che sia questo anche il suo grande insegnamento per me. Accogliamo le care sfoglie del cardinale Carlo Maria Martini che fece il solennio ingresso come il Ciresco a Milano, in questa piazza, in questa cattedrale, il 10 settembre 1980. Grazie. Grazie. 1010 Dio che affidato la pura pastorale della chiesa milanese al tuo servo il vescovo Carlo Maria, accogli nella demora eterna e fa che riceva dalle mani del suo Signore il premio delle fatiche apostoli. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che viverebbe con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Grazie a tutti.